E' durato meno di due mesi il suo incarico assessoriale. Pasquale Mazza, assessore ai servizi sociali della provincia del Grigento, nominato dal presidente Eugenio Torsi il 15 ottobre scorso, è stato rimpiazzato da Salvatore Vella di Raffadali, anche lui esponente del movimento dei lealisti del presidente, ideato da Torsi nel luglio del 2011. A Vella dovrebbe essere trasferita la delega ai servizi sociali già occupata dal suo predecessore e in precedenza da Mariano Ragusa. Ma non ci sono retropensieri sul cambio in giunta. Mazza ha lasciato l'incarico, ha spiegato Dorsi a causa di un trasferimento collegato al suo lavoro. La giunta è così composta Alfonso Montana, Adriano Varisano, Angelo Biondi, Salvatore Tannorella, Francesco Cristian Schembri, Piero Giglione e Vito Terrana. Otto in tutto dopo l'abbandono alcune settimane fa degli assessori di Grande Sud, Pino Montana e Paolo Ferrara. I rapporti tra Dorsi e il partito al momento restano tesi con il capogruppo in consiglio provinciale Orazio Guarraci che sta presentando una raffica di interrogazioni e emozioni. La rottura con Michele Cimino Paris è stata causata proprio dalla nomina di Pasquale Mazza. Gli arancioni infatti hanno visto come una provocazione l'individuazione di un nuovo assessore lealista, visto che loro da tempo attendevano di portare a tre la loro presenza in giunta, nominando magari uno dei non eletti della lista o qualcuno da loro designato. Dorsi tuttavia spera in un ricongiungimento con Michele Cimino perché è una persona seria, ha detto Dorsi. Mi auguro che il suo partito possa tornare in amministrazione per continuare a governare il territorio. Se così non dovesse essere non ne faremo sicuramente un dramma politico.